Sì, è una giornata bellissima, doveva essere un atto informale, invece tutta l'aula consigliare si è riempita di cittadini ed è una cosa che inordogisce e fa molto molto piacere. Ora il primo atto ufficiale sarà poi il giuramento innanzi al Consiglio Comunale, ma per quello aspettiamo le pratiche burocratiche dell'ufficio elettorale. L'eredità è pesante perché evidentemente i problemi sono tanti e quindi bisogna rimboccarsi le maniche.